ho visto prima ma per dire ce l'aveva solo Adela, ma Gekko perché con Greek non me lo faceva mettere, attenzione il fuoco oh per poco, stavamo persi colpiti anzi, bruciati no, devo curare assolutamente e comunque anche con Greek si schiva anche Gekko con Greek si schiva vediamo cosa è possibile il passaggio ne sono sicuro si qui credo che mi serva anche Adela io mi domando perché non dato questo nome Adela, ma a me sembra un po' strano Kot, una pietra molto essenziale che permette alla lama di una spada di infligire temporaneamente più danni la sua volentieri subito quando c'è un nemico o quando arriveremo dal boss sempre se chia seह se Grazie a tutti.